bello a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video oggi siamo su 5 su 1 vi farò vedere una gara andiamo su online attività avvia attività preferita e ho trovato moltissime gara ho trovato ok adesso vediamo come questa gara perché adesso lo convo questa gara perché non l'ho mai provato da solo allora già senza collisione la musica facciamo no di solito una trafica no tra mezzogiorno sereno ok ok facciamo così facciamo aperto praticamente ai miei amici e vedremo più giocatori dello stesso livello e baston ok no entrate c'è da solo almeno una persona che entra almeno vediamo se entro ragazzi entro una persona lo faccio con lui sono non poterà moltissimo il video speriamo che entro qualcuno ok stai entrando una persona che raga ora partirò di sicuro quando entrerà il cg parto perché sono per la tantissima il video quanto entro stai entrando ok entratto vediamo ragazzi contro lui devo vedere chi vincerà non l'ho mai provato questa gara adesso la sto provando da solo con lui non è uno dei miei amici non lo conosco vediamo già si vede come inizia una gara vai ora adesso andrò andrò interse perso l'atta ma invece andrò più veloce ho superato prendiamo no oh mio oh mio oddio aiuto aiuto ok salto però se saremmo nato io bellissimo sarà bene a te almeno credi me aiuto eh corta questo è una vita dalla sci torba come si fa no bellissimo si va benissimo almeno no mi ha superato se ne perde non fa niente se nemmo perde lui che culo corri 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 ah si è schiantato vai andiamo qua questo salto c'è più veloce più veloce no no bellissimo Ponte, non sul ponte, non voglio rimanere qua No, ti schifo No, no, porca schifo Mucidato Sì, vai, vai Quanto muo Mi sono schiantato Ah Vai, andiamo Eh sì, ma c'è Sato, ma c'è Sopra Ma non sto sbagliando Hai Sì, sì Bellissimo Vai Sì, ok Non ti Non ti Non ti Non ti Non ti È lì Oddio Non so No Ricominciamo il checkpoint Sì Dobbiamo fare tutto il giro Vabbè dai Che è a posto Andiamo Si frena Ok Ok Mo' andiamo subito alla seconda gara Quanto conclude questo Chiediamo il nostro panchetto Se si spriga almeno Questo è un nuovo Il sospetto Non lo noto che il minuto è venuto come Gli STG Per 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 Ok Prima 6.000 Almeno Ok Adesso Facciamo la Allora Andiamo subito alla seconda gara Vabbè mettiamo mi piace Andiamo a free mod E' impossibile ristigere Questa Nella sessione Viti Quindi E' impossibile Stare con Ok infatti Ho caricato subito Sono c'è Un po' Ok Vabbè serviamo i soldi Allora Facciamo Internet Inazpizzi Minzbank Come lo principale Deposita E facciamo 6.730 dollari Quindi Seconda gara Attività Attività E Gara Facciamo E Questa Questa Si dai dai Si ho con la moto Perché con la bici Con la moto è spettacolare Questa Questa carica Questa è già caricata Ok Caricata Caricata No Io vorrei fare senza collisioni Però Vabbè Se no facciamo gt da punto a punto Super Allora si 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 La gta squadra No No Togliamo Radio No C'è un Bert Invitato Noticamente No Vabbè No Do te Si sono Attuali Che Devo invitar All'ottimitività Che peccato Amici Giocati Mi Vedere Ancora Facciamo Tutto E basta Ma aspettiamo Che entrambino Una persona Comunque Raga Sempre Ogni video Che faccio Sulla live Su twitch Non è colpa mia Se Si vede così Perché Connessione Internet Eppure Do come Veloci Internet De vita Raga Se si vede Un pochino male Non è colpa mia Ma E gli twitch Che mi fa F*** Venti video Ok Fanno Drago Sto entrando Ok Aspetto Quando tu Entra Così Facciamo La gara Eccolo Qua Con Drago Sei Italiano Sto facendo Una Gameplay Disso Io Trasmissione Una Visizione Ok Perchè Entriamo Così Vabbè Dai Mi Vi la Richiesta Ok La gara Malata Aspetta Piano Piano Sì Piano 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 Sì Piano 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 oh mio dio preffetto bellissimo subo un attimo eccomi Ehi, l*****o Oddio Non sono le persone, sono le persone Ho preso No, no Scusi signora Oddio Cosa è mostrato No Vai dai subito, subito, entro, entro, entro No, aspetta Ok Ok Piano Eccola qua Attenzione Vincere la seconda gara Ma faremo subito la terza Vincere la terza Ok Vincere la terza Ok 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 Faccio Aspetta un Guarda, non ti invito Ti invito, vai fermo Ok 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 fanno droga da entrati prego o mostro mi sa lasciando i soldi e mi chiesto oppure va a fare un'altra cosa per amici dal link di amici in giusia che così le direttamente fanno droga speriamo che entro oh beh vi faccio automaticamente se vuole entro se no non entro allora i miei membri della mia crew oddio ci vado allo stesso livello se mi trovo un drago a me allora dai qualcuno ok vabbè ok lascio uno perdere tanto 13 hai ricevuto 2.000 per esserti comportato bene così faccio un gioca no ok questa è l'ultima gara di oggi quindi facciamo così se sei troppo vai buon can dai ok bellissimo allora subito lo sapete non l'ha fatto fare tu siamo robbi aspetta aspetta raga aspetta aspetta niente no aspetta raga non sto capendo proprio niente aspetta 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 oh mio dio No, stai schiantando Scusate, per... Scusate, di qua, di qua Di qua Scusate, di qua Scusate, di qua Benissimo, abbiamo già concluso la gara Aspettiamo se viene con l'altro Oppure se finisce la gara Qua, ok 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 1922 Mi piace Bel like Facciamo free mod Dai, sbrigati Ok Allora Allora Ah, va bene Allora ragazzi Se vi è piaciuto un video Lasciate un bel like E iscrivetevi al mio canale Bella Allora Allora